buonasera buona domenica a tutti benvenuti io vi guardo da qui vediamo un attimo se arriva la notifica come sempre vediamo un pochetto vediamo un pochetto si arriva così iniziamo a salutarci voi sapete che ogni tanto facebook fa un po di di casini no ma ci siamo eccoci qua siamo in diretta allora abbassiamo il volume e io vi li metto di qua benissimo allora vediamo ho fatto sì tutto bene mettiamo questo qua buonasera maria come siamo oggi siamo bene ok come vedete dietro di me ci sono ancora le uova di cioccolato di pasqua e che cosa facciamo vediamo ciao giuseppina anna eccoci qua ci siete benissimo come vedete dietro di me ci sono le uova di cioccolato e che cosa andiamo a realizzare in parecchi mi avete scritto in primato dicendo mi chiedeva farai qualche ricetta per riciclare le uova di cioccolato ebbene sì una ve l'ho già postata stamattina con una torta sfoglia semplicissima da realizzare per postare anche un piccolo breve video così potete insomma seguire ma tanto è veramente una sciocchezza di ricetta ma buona 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 allora vediamo buonasera vincenzo maria ti salutano saluta maria saluta tutti mi raccomando condividete la diretta allora non indosserò il grandio limbo perché stasera facciamo una torta nera ambresa ambresa allora iniziamo ad accendere qui l'acqua perché dopo andiamo a sciogliere un po' di cioccolato a proposito del cioccolato prima di realizzare la torta nera io vado a rompere questo cioccolato qui lo rompo con voi perché questo è un poco grande magari me lo consegno per altre ricette questo qua invece è un quattro 300 grammi se riesco a scogliere questo ecco qua devo togliere prima ecco qua vediamo questa è una campana di cioccolato vediamo che succede maria qui c'è una sorpresa una piccola sorpresa maria un braccialettino maria niente di te dopo lo facciamo meglio a maria allora quindi prendiamo il cioccolato una parte ci servirà per coprire e una parte all'interno questo è del cioccolato al latte quindi lo volto proprio oltre mamma mia questa carta adesso la togliamo perché da fastidio maria angela ciao bella dolcino pasquina rincenzo maschera siamo dato abbiamo tolto la carta questo ovviamente andiamo a tagliare i piccoli pezzi una parte lo sciogliamo perché ci servirà per la volta un'altra parte lo mettiamo all'interno allora quindi questa è una ricetta semplicissima seguitemi e la facciamo insieme occorre l'anno tre uova intere ciao paola 1 2 certo costitio con i dietro ma chi l'entra in diretta diceva mi chiede una pallina ciao marta nienta nienta grazie ho appena visto che mi hai taggata in un tuo posto hai fatto una delle ricette grazie tesoro ecco qua però se tu mi tagli su questa pagina sui sapori di procida io ti riporto nelle storie va bene allora tre uova vanillina 200 grammi di zucchero semolato miscoliamo se voi volete farlo con la frusta elettrica fate il robot quello che volete io faccio così che faccio per me faccio quindi 120 ml di olio di semi di girasole o se volete burro fuso e miscoliamo ciao rosaria un bacione tesoro antonella cresta rosanna e ben hai fatto il polpettone bravo quella ricetta che ti ho dato quella era la ricetta di mia mamma rosanna perché se tu vai a vedere in tutte le ricette che ho fatto che ne sono più di 1400 ricette verrai che il polpettone non ho mai fatto sai perché perché qui a casa non piace a nessuno quindi una ricetta esclusiva che ho dato veramente a te con tutto il cuore se vuoi puoi postare mi puoi mandare la foto e io ti riposto nelle storie perché sono felice di aver condiviso con te una delle ricette che non ho mai fatto però magari a breve la farò per voi e poi se non la mangiamo noi insomma qualcuno la mangierà ciao maria antonetta e quindi mescoliamo aggiungiamo un po di room fate voi eh ma rialzo un po la musica non si sente la musica oggi è voi su ciao per nando teresa esposito condividete la diretta e questa è una ricetta da riciclo uova di cioccolato poi latte cinquantemene patrizia rosanna che dici giovanna trisbardo buonasera la farò di nuovo peccato annaccio devi farà cosa lui poi mettete un paio di cucchiai di canale di nocciole o di mandorle queste sono nocciole a vediamo stasera me la tante me la sono pure a questo punto passiamo setaccio il lievito una bustina una bustina bene 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 così non fanno tutte quelle palline e andiamo a mescolare nel frattempo aspettate allora che questo è un po togliamo un po di cioccolato così dopo lo mettiamo all'interno questo ci servirà per scioglierlo per la copertura quindi inizio a mettere qui a bagnomaria vedete mescoliamo marianna tesoro ada pure rosaria tesoro non non c'è la sanno ma chiù mangia a panora studenzi da riete ma fa paura campi con te sempre con te palumuri caccia di ci ma fa parola amare mettiamo cinquanta grammi di cacao fernando vedete dobbiamo per forza si tacciare perché altrimenti si fanno tutte queste palline che poi restano nell'impasto e non si sciogliono oddio si sciogliono però facciamo il sistema più pulito ecco qua facciamo così e andiamo a mescolare mescoliamo sempre io domani riposto tutto e quindi non vi preoccupate mescoliamo bene bene facciamo sciogliere nel frattempo io mi leggo i commenti che stasera sicuramente di migliaia è uscita pazzo non mi chiede sempre così io anche quando sono a casa da sole in compagnia accendo sempre la musica la radio anche quando faccio i servizi quando sono nel negozio ho sempre la radio accesa perché la musica per me è vita e allegria che dici netta se ne ha 360 grammi rosaria grazie quindi facciamo bene bene sciogliamo sciogliamo anche il cacao e a questo punto andiamo a setacciare 200 230 grammi di farina 00 si setaccerà vediamo sì 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 facciamo piano piano ecco qua voglio farlo per bene perché così viene una crema liscia 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 un composto liscio liscio il cioccolato quello si sta a sciogliere ovviamente se voi avete questo è cioccolato al latte se avete quello fondente fate pure anche perché questo ci insegna è nata giuseppe che dice bene o non giuseppe che ce l'abbiamo cantata dobbiamo pure cantare e che siano che facciamo oggi ecco qua abbiamo fatto anche questa ecco qua me la sto prendendo un po' comoda perché è semplicissima la ricetta è facilissima, abbiamo finito il prodotto finito già ce l'ho già fatto ovviamente quindi lo dobbiamo soltanto inciuciare, ma guardate sempre qui che cosa ho qui ho un po' di sempre pezzi antichi questi qui li ho comprati in Spagna questo e questo qui, guardate come cammino io ce l'ho come soprammobile nella stanza da pranzo non li utilizzo ma li faccio vedere e qui invece c'è il mio libro per chi lo volesse acquistare mi può contattare in privato allora, il composto è pronto Anna Maria, ciao Anna, che dici? un'esposione di simpatia? allora, come vedete il composto adesso facciamo con la spatola ecco qua deve venire così adesso vi faccio vedere io una parte di cioccolato guardate deve venire polposo in questo modo il cioccolato qui si sta quasi quasi è quasi quasi pronto adesso lo giriamo un attimino ecco qua ecco qua questo si è quasi sciolto lo spegniamo prendiamo uno stampo a cerniera circolare da 20-22 cm e che cosa facciamo? togliamoci queste quattro menti andiamo a metterci un foglio di carta forno chiudiamo vedete? e andiamo a togliere gli eccessi ecco qua faccio le ambrese ambrese come si fa? Elio! buonasera un bacione luncio allora vedete? aspettate tagliamo anche questo qua vedete? ecco qua andiamo? ah no prima di mettere facciamo una spruzzata di spray staccante sui bordi vedete? ecco qua così veramente che verrà via al bacio ecco qua ecco qua versiamo all'interno abbiamo fatto adesso andiamo ad aggiungere un po' di pezzetti di cioccolato che si scioglieranno in cottura va bene? aggiungete quanto ne volete vi ripeto se avete cioccolato fondente bianco quello che volete insomma riutilizzare voi eh Michi tesoro ci sei? e dice che belle queste canzoni allora in forno a 180 gradi per 40-45 minuti in forno ventilato previsto al dato forno statico 190 gradi quando vedete che diciamo la torta inizia a lievitare bene bene e se vedete che inizia a scurirsi eh ad ascurire la superficie coprite con la carta stagnole e continuate la cottura in ultimo fate la prova a stecchino ci vorranno 40-45 minuti rubiamo dentro sbagliamo ok dopo andrò ad infornare questa vi faccio vedere il prodotto finito eccola qua ieri ve l'ho fatto vedere anche le mie solle qui l'ho messo un pochetto di cioccolato sciolto ma adesso andiamo a decorare guardate quanto è soffice guardate vedete anche sotto è super cotta vedete allora vediamo un pochetto se il cioccolato si è sciolto si è sciolto io metto questo qui ehm al latte eh che è quello che devo consumare perché alle mie figlie piace il cioccolato al latte quindi quello fondente proprio non hanno avuto regalato insomma uva fondente però abbiamo questo al cioccolato eh fate una colata così mettetele di più di meno io vi faccio vedere più o meno insomma come possiamo prepararle ciao Fabiana ecco qua a proposito eh dalla mia amica Fabiana che è in negozio di fronte a me articoli per bambini chiede il posto di Procida andiamo a visitarla che ha tantissimi articoli convenienti di qualità e belli 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 eh garantiti 100-100 vero Fabiana ciao Nadia Patrizia ecco qua facciamo così e andiamo a completare con una spolverata di zucchero a velo ecco qua guardate e poi dolci sinfondo o completate con i pezzetti di eh cioccolato che volendo potete completare tranquillamente tipo così va bene ecco qua andiamo a metterci dei fiorillini ecco qua ecco qua risultato vediamo 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 un coltello coltello dove sei coltello dove sei prendiamo un coltello vado però una foto Maria vogliamo fare una foto alla torta stavo tagliando la fetta però avevo bisogno anche della foto intera vediamo Enzo bella che dici Maria? grazie Grazie a tutti. 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 Adesso non l'ho fatta per evitare troppi inciuci. Però questa è una torta a base semplice, poi ovviamente voi potete farcirla, decorarla come meglio credete. Va bene? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io non smetterei mai di stare in diretta con voi perché a me piace il pubblico, mi piace la vostra compagnia tantissimo. Allora Chef Michele, allora Chef Michele, un abbraccio a te, alla Poglia, a tutta la tua famiglia, a tutto il tuo staff di lavoro, a tutti quanti voi. Per chi vuoi, per chi vuoi, per chi vuoi, per chi vuoi? Per chi vuoi, per chi vuoi, per chi vuoi, per chi vuoi? Per chi vuoi, 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 per chi vuoi. nelle mie storie, nella mia pagina va bene, grazie Maria per la musica, grazie amore per avermi presa, un grazie un kiss a tutti quanti voi buonasera, ciao